Occasione sciupata. Era nelle mani del Monopoli la chance per hissarsi al secondo posto in classifica ed invece la squadra di De Luca, nonostante la superiorità numerica per tutto il secondo tempo, si fa imbrigliare dalla pute Olana rimediando un pareggio senza gol che ha il sapore della mezza sconfitta. Aveva sempre vinto in casa il Monopoli e la squadra campana, almeno sulla carta, sembrava la più abbordabile rispetto a Biceglia e Brindisi, tanto per citare un paio di avversarie quotate. Invece ecco una delle trappole disseminate in questo campionato di Serie D, dove il Monopoli resta comunque, insieme al Brindisi, che ne rifila 7 al Nardò, in campo solo per onor di firma, tra le pugliesi meglio piazzate. Nella domenica in cui il nuovo tecnico Favarin riporta il Biceglia la vittoria, di misura sul Real Metapontino, restituendo quella serenità che sembrava smarrita, ma anche punti utili per cominciare una risalita in classifica ancora molto corta, nonostante i nove punti di differenza con il Marcianise, a Taranto arriva l'esonero Di Maiuri. Fatale è il pareggio contro il Sansevero che interrompe così la striscia di quattro sconfitte consecutive. Adesso sono gli ionici a prendersi la palma di squadra delusione di questo avvio di campionato, scivolati ad un passo dalla zona play-out, dove entra a pieno diritto anche il Grottaglie, sconfitto 4-2 a Matera. La formazione lucana diventa la principale antagonista del Marcianise, che sorprende tutti e prova un primo a lungo, grazie al successo per 4-3 sulla Turris. Davanti alla squadra di Cosco poteva esserci, come detto, il Monopoli, che si rammarica per i due punti persi per strada, segno che in questo campionato tutto è ancora da definire.